Le primarie del Partito Democratico, salvo risultati clamorosi al balottaggio, aprono un nuovo scenario anche a Napoli. Impegnato nella creazione del cosiddetto Movimento Arancione, un partito in grado di raccogliere le migliori forze della società civile e non solo, da lanciare a livello nazionale, Luigi De Magistris in un'intervista ha ipotizzato un quadro di alleanze che includa anche il PD e la sinistra Ecologia e Libertà di Nighi Vendola. Più che SEL suona strana l'alleanza a livello nazionale con il Partito Democratico, partito che a Napoli dal sindaco ha ricevuto solo porte in faccia nell'ultimo anno. I rapporti tra l'ex PM e il partito di Bassolino e Iervolino non sono mai stati buoni, eppure dopo l'intervista di De Magistris questa mattina i vertici locali del PD e di SEL, i due segretari Enzo Amendola e Arturo Scotto hanno convocato un incontro con la stampa con una curiosa tempestività. Io leggo le interviste di De Magistris quando parla della città e dei problemi e come risolverle, sulla politica lascia il tempo che trova. Possiamo dire che queste frasi dette appunto dal sindaco cambieranno i rapporti nel Consiglio Comunale di Napoli? Il Consiglio Comunale di Napoli si deve occupare dei problemi di Napoli, De Magistris è il sindaco e la città. A me non piace che i sindaci si preoccupino di fare lista nazionale, è un suo diritto, lo può fare, però ovviamente non ci preoccupiamo come Partito Democratico innanzitutto dell'emergenza di questa città.